Pochi secondi e cercare un canestro così difficile vuol dire che hai mosso non benissimo la palla in attacco Seconda buona azione difensiva dell'Umana Bowers adesso viene in punta a prendersi il pallone Si va fuori per il tiro dalla media Da parte in partita anche a Daniel Hackett Ancora la zona, vediamo Però sul primo passaggio poi i giocatori in bianco-rosso cominciano a seguire i tagli Arrivata anche a meno 20 adesso arriva la giocata splendida Sotto canestro da parte di Daniele Magro che trova il più 17 59 a 42